Valentino Rossi di nuovo papà. Il 9 volte campione del mondo e la sua compagna Francesca Sofia Novello aspettano il secondo figlio. A dare l'annuncio è stato lo stesso 45enne pilota su Instagram giocando con il suo soprannome. È sicuramente una femmina dottore, si legge infatti accanto alle foto in cui indossa camice e stetoscopio. La Francia è incinta, aspettiamo un'altra bambina. Valentino Rossi è già padre della piccola Giulietta nata a marzo del 2022. La prima figlia era arrivata quasi come una sorpresa per la coppia che forma una famiglia da molti anni. Proprio lei, subito dopo l'esperienza sul palco del teatro Ariston del Festival di San Remo come conduttrice, aveva dichiarato di non avere in programma di avere figli in tempi imminenti. E invece, la grande felicità per l'arrivo di una bambina che ha cambiato la loro vita radicalmente. E, c'è da ammetterlo, concepita nel momento perfetto per entrambi. La carriera di Francesca Sofia Novello era in ascesa mentre lui si era appena ritirato dalle corse. Tanto entusiasmo e commozione fra i follower dei due sui social network, su Instagram il lieto annuncio della seconda erede di Casa Rossi ha accumulato centinaia di link e migliaia di commenti in poche ore. Proprio due giorni fa il fratello di Valentino, Luca Marini, aveva fatto sapere sempre tramite i social che diventerà presto papà. Quasi contemporaneamente alla seconda paternità, dunque, il campione diventerà anche zio.